Per non rischiare che il pay venga annullato per mancanza di indicazioni sulle risorse necessarie per l'anno scolastico successivo, così come abbiamo visto in un precedente video, il GLO è tenuto ad elaborare la propria proposta di fabbisogno. In molti di voi mi avete chiesto come procedere. Ben ritrovati o benvenuti nel format pay.cf la risposta alle tue domande del canale Diversi Tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Maria Teodolinda, sono una docente di sostegno in un liceo e da dieci anni mi occupo di formazione dei docenti per enti riconosciuti dal MIUR. In questo video andremo a vedere cosa indicare e su quali elementi basare la proposta da parte del GLO delle risorse per l'anno scolastico successivo. Procediamo con ordine. Per quanto riguarda il sostegno educativo e didattico fornito dall'insegnante di sostegno, si dovrà indicare, e precisamente nell'allegato C1, tabella del fabbisogno risorse, il range, o diciamo così l'intervallo di ore necessarie. Intervallo di ore che è diversificato, come vedete, da ordine e grado scolastico, ma su quali basi e quindi su quali elementi andrete ad indicare un intervallo piuttosto che un altro? Proprio su quello che viene definito il debito di funzionamento o la restrizione della partecipazione alle attività da parte dell'alunno. Restrizione che viene indicata e riportata proprio nel profilo di funzionamento. Chiaramente in questo caso si tratta di una restrizione complessiva, quindi bisognerà andare a vedere nelle quattro dimensioni previste dal PEI, diciamo questa restrizione complessivamente su quale livello si colloca e in base a questa restrizione stabilire sostanzialmente l'intervallo di ore. Quindi sul profilo di funzionamento che ci fornisce l'elemento base per determinare la proposta, ho dedicato dei video perché qualora mancasse il profilo di funzionamento si può far riferimento alla diagnosi funzionale, ma vi ho dato anche qualche suggerimento qualora mancassero entrambi i documenti. Vediamo ora come procedere per quanto riguarda l'indicazione delle risorse di assistenza e quindi delle varie tipologie, che non è detto siano sempre necessarie. Per stabilire in effetti la proposta eventuale di assistenza, il GLO dovrà procedere guardando due dimensioni in particolare, la dimensione della comunicazione del linguaggio per quanto riguarda l'assistenza alla comunicazione e la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento per quanto riguarda l'assistenza specialistica all'autonomia e o l'assistenza di base. Per quanto riguarda le prime due tipologie di assistenza, saranno gli enti preposti a fornire gli assistenti sulla base della richiesta formulata dal dirigente scolastico, mentre per quanto riguarda l'assistenza di base, saranno i collaboratori scolastici e quindi il personale ausiliario della scuola a fornire questo tipo di assistenza. Cerchiamo quindi di capire meglio a quali bisogni, tipo comunicativo e linguistico, rispondano queste risorse di assistenza. Per quanto riguarda gli alunni privi della vista, si potrà richiedere l'assistenza del tifologo. Per quanto riguarda gli alunni privi dell'udito, si potrà richiedere l'assistenza, in realtà sul PEI è indicato interprete LIS, ma sarebbe più corretto dire l'assistenza alla comunicazione che può essere segnante o oralista. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità intellettive o con disturbi del neurosviluppo, si potrà richiedere l'esperto della comunicazione aumentativa ed alternativa. Vediamo ora come procedere nel caso la restrizione di partecipazione riguardasse la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento. Quindi possiamo dire che per quegli alunni che, essendo disabili, non siano autonomi nella cura di sé, nella mensa o in altre funzioni di questo tipo, si potrà richiedere l'assistente specialistico all'autonomia. Qualora questa restrizione di partecipazione, quindi questo debito di funzionamento, fosse tale da richiedere una mera assistenza materiale, allora in quel caso si può chiedere per tutti quegli alunni che abbiano quindi delle difficoltà negli spostamenti, nell'igiene, nella mensa e in altre funzioni di questo tipo, l'assistenza di base. Ricapitolando, Le proposte da parte del GLO sulle risorse necessarie per l'anno scolastico successivo, sia di sostegno che di assistenza, andranno sempre fondate sulla base del profilo di funzionamento e quindi sui vari livelli di funzionamento dei singoli studenti. Per quanto riguarda le risorse di sostegno educativo e didattico e quindi gli insegnanti di sostegno, l'intervallo di ore necessarie, diverso ovviamente da ordine grado scolastico, si baserà sul funzionamento in tutte e quattro le dimensioni previste dal PEI. Per quanto riguarda invece le risorse di assistenza, dovremmo stare attenti a particolari dimensioni. Si vedrà se ci sono delle particolari carenze nella dimensione comunicativa e del linguaggio, per cui si chiederà un assistente alla comunicazione. Assistente alla comunicazione che sarà diverso appunto a seconda dei bisogni e quindi per gli alunni privi della vista si chiederà l'assistente tifologo, per gli alunni privi dell'udito si chiederà l'assistente alla comunicazione che potrà essere specializzato in diversi metodi educativi che possono essere il metodo bilingue, bimodale o l'oralismo. Per quanto riguarda invece quegli alunni che abbiano una disabilità intellettiva o un disturbo del neurosviluppo che comprometta appunto l'area comunicativa linguistica, si potrà richiedere l'assistente esperto in comunicazione aumentativa e alternativa. Poi dobbiamo vedere una seconda area che è quella dell'autonomia e dell'orientamento. Quindi qualora il funzionamento fosse precario o comunque deficitario in questa dimensione, in questo ambito, e quindi gli alunni presentassero delle difficoltà per esempio nella cura di sé o a mensa o in funzioni di questa tipologia e fosse necessario quindi procedere con un intervento educativo in tal senso, allora si potrà richiedere l'assistente specialistico all'autonomia. Per tutte quelle funzioni in cui l'alunno abbia delle difficoltà nella sua autonomia, quindi parliamo degli spostamenti all'interno della scuola o della propria igiene o della partecipazione a mensa e così via, ma dove non sia necessario un intervento educativo ma un semplice supporto materiale, allora in quel caso si chiederà l'assistenza di base. Tale assistenza verrà fornita dai collaboratori scolastici nel rispetto del genere dell'alunno o dell'alunna e verrà fornita senza vincoli orari, cioè all'occorrenza. Bene, abbiamo visto tutta questa dimensione della richiesta del fabbisogno, a questo punto non ci rimane che vedere come motivare tale proposta, perché è proprio quello che ci richiede la normativa e lo vedremo nel prossimo video che vi metto qui. Grazie per l'attenzione e alla prossima!